Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Avere una pista di neve in pieno agosto può succedere solo a Livigno. Venerdì sera il centro del paese dell'Alta Valle è stato ricoperto dall'acqua tre bianca, stoccata dall'inverno grazie alla tecnica dell'osno farming, creando un anello di un chilometro fra le vie dello shopping, in cui ha preso vita la 37esima edizione dello storico Trofeo delle Contrade. Rigorosamente in abiti tradizionali, il portacolori dei vari rioni di Livigno, ovvero Teola, Centro, Ostaria, Forcola, Comunin, Pemont, Plandasola, Sarocca e Tre Palle, si sono dati battaglia sugli sci, accanto ai grandi campioni della disciplina, che hanno invece dato vita allo spettacolare One Key Shot. Ospite ed eccezione, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che proprio in Livigno aveva preparato il mondiale di Budapest, che era vista trionfare nei 200 metri. Tornare qui questa volta in veste da vacanziera è stato molto bello, molto divertente perché abbiamo fatto un sacco di attività che quando siamo qui in collegiale ovviamente non riusciamo a fare, però sono contenta, sono contenta di essere qui, anche per dare un ringraziamento alla città, per la fortuna, chiamiamola così, che mi ha portato all'ultima gara. A primeggiare nel fondo maschile della gara pro per il secondo anno consecutivo, il campione del mondo di lati Federico Pellegrino. È uno spettacolo, il solito spettacolo di Livigno. Vengo ormai da tanti anni qua a allenarmi e ormai il secondo anno a gareggiare. L'atmosfera è fantastica, quest'anno tanti tifosi, tra cui anche la campionessa Federica Pellegrini. Tanti bambini mi chiedono, ma tua sorella Federica Pellegrini? Papà e mamma hanno avuto una gran fantasia, però mio fratello Francesco, mia sorella Alice, sono comunque sia a casa a guardarmi e a farmi il tifo. È sempre fantastico qui a Livigno e la migliore preparazione in vista dell'inverno. Tra le donne, a spuntarla è stata Gaia Wurik, che ha battuto in una bellissima finale Greta Laurent. Nel Bietlon maschile, Dominic Mignisch si è invece riscattato dalla medaglia di legno dello scorso anno, aggiudicandosi la vittoria. È veramente un spettacolo bellissimo. Devo dire i complimenti all'organizzazione, perché hanno fatto un gran lavoro e è stato bellissimo correre qui. Per noi il Bietlon è uno sport che è in crescita e per noi è importante anche fare queste manifestazioni che ci aiutano a far conoscere. Fra le donne, il successo è nato invece alla regina di Livigno, Dorotea Virer. È veramente bellissimo essere qui a Livigno con così tanta gente e poi con la neve in mezzo all'estate, con venti gradi comunque. e credo che per tanta gente sarà stata una sorpresa, perché comunque non si vede da nessuna parte la neve a metà agosto, diciamo, è veramente una bella esperienza. Devo dire che mi sento quasi come a casa, è veramente bello perché conosco sempre più gente e sono veramente tutti gentilissimi con me e questo mi fa veramente molto piacere.